Carrellata dei migliori giocatori pre-periodo TOTS, al momento abbiamo visto i difensori centrali, adesso ci andiamo a vedere quelli che sono Mediani e Cicci. Una premessa che ci tengo a fare per l'ennesima volta è che quando non vedete un giocatore all'interno del video non esplodete, semplicemente ne discutiamo, ne parliamo, argomentiamo. Questi sono i giocatori che io preferisco, quelli che secondo me sono i migliori. Ciò non vuol dire che un altro giocatore che non è presente nel video sia una pippa automaticamente, semplicemente non lo reputo a livello di questi, ma comunque può essere tranquillamente utilizzabile se per mille motivi ce l'avete non scambiabile, vi trovate eccetera eccetera. Quindi non mi aggredite quando vedete che manca qualcuno, tranne come è stato Cocker, perché è stato proprio uno svarione. Quindi per quanto riguarda centrocampisti e Mediani, mettetevi comodi, partiamo subito con il primo ospite di questo video che è Bruno Fernandes, il principe del centrocampo. Ditemi quello che volete voi, ma questa qua è una carta veramente esagerata. Ci ho fatto quasi 500 partite, veramente non riesco a togliere questo Bruno Fernandes da mezzo al campo. Difende e attacca, 1.79, alto-alto, 4-4, la velocità è discreta, ha un ottimo tiro, passaggi che sono sensazionali, super agile. Statistiche difensive che non sono al top, raga ma ditemi quello che volete voi, è distruttivo, cioè non lo so che c'ha, ma non si sente, fa incercitazioni automatiche. Ruba bene la palla col contrasto, è aggressivo nonostante abbia solo 79, ha anche una discreta forza nonostante appunto la stazza non importante. Bruno Fernandes si conferma uno dei migliori giocatori all'interno di questa categoria. Categoria che non prevede, vi ricordo, Icone, Toti, eccetera, eccetera, perché non è che vi devo stare io a dire ovviamente che Bruno Toti, Gullit, Virai, eccetera, sono forti. Andiamo su giocatori un po' più entry level, che quindi possono permettersi bene o male tutti. A seguire, un'altra carta che è un SBC, che magari sarà diventata un po' vecchiotta, ma che qualcuno avrà nel club, è Roberto Firmino. Raga, questa carta qui, il suo, lo fa ancora. 1,81m alto alto, 5 di skill e 4 di debole, quindi tutte le stazza al posto giusto. Una velocità discreta che può essere, diciamo, aggiustata con un'ombra, visto che lo si va a utilizzare da CC o da CDC, 4231442. Ha degli ottimi passaggi, ha delle ottime statistiche per quanto riguarda agilità, equilibrio, reattività, freddezza, controllo palla. Questo ha delle grandissime statistiche difensive, perché infatti in questa versione è stato boostato all'ennesima potenza per quanto riguarda le stats difensive. E poi abbiamo anche un ottimo 81 di aggressività e un discreto 80 di forza per un giocatore che è comunque alto 1,81m, quindi insomma la sua presenza in campo la fa tranquillamente sentire. Quindi giocatore molto 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 valido, il buon Roberto Firmino, che si conferma all'interno di questa graduatoria ed è un giocatore che, insomma, vi potete tranquillamente portare fino al periodo dei Tots. Per quanto riguarda il giocatore successivo, anche qui parliamo di un giocatore del Liverpool ed è Curtis Jones. Su 1,85m, alto alto anche lui, 4-4. Questo è più veloce rispetto a Firmino, ha un ottimo tiro, dei passaggi clamorosi, anche qui ottime statistiche per quanto riguarda agilità, equilibrio, reattività, eccetera, eccetera. Statistiche difensive che sono leggermente inferiori, però una maggiore forza e una maggiore aggressività. Per questo che è un giocatore veramente molto molto valido, vi devo dire la verità, mi ha sorpreso tanto. In mezzo al campo si fa sentire, ruba bene il pallone, si fa trovare sulle linee, è anche un difensore che, insomma, reagisce bene quando controllato, perché magari alcune volte con dei giocatori che voi andate a controllare manualmente in difesa vi rimangono passivi. Questo invece è molto molto buono, oltre a fare anche una serie di interventi automatici, che lo rendono, secondo me, un giocatore molto interessante per il ruolo di CC e di CDC tranquillamente. Peccato che anche qui si tratta di un SBC, in Premier, se uscite un botto di SBC valide in questo ruolo, ovviamente sta a voi sapere se l'avete sbloccate o meno. Ma comunque non disperate, perché sicuramente queste carte verranno riproposte pure nei Toz, ne sono sicuro, perché i Toz è la promo che, diciamo, più invoglia a spacchettare, diciamo, per ultimi. E quindi EA cerca di massimizzare in ogni modo. Chiudiamo il lato Premier, perché come al solito ve li butto un po', diciamo, per campionato, con il sempreverde Kanté, che rispetto agli altri, secondo me, è un po' inferiore, ok? Parliamo dunque di un giocatore che ogni anno il suolo fa 1.68, normale alto, 3.3, un anetto, ma un anetto con tanta cattiveria. Infatti ha gran velocità, ottimi passaggi, buone statistiche per quanto riguarda agilità, equilibrio e attività, anche controllo palla. Statistiche difensive che non hanno bisogno di presentazioni, spiccano, intercettazioni 94 e lettura difensiva 92, anche se parliamo di un giocatore che, avendo le cosiddette gambine, comunque quel 94 intercettazione non è che lo sentite poi così tanto. Però parliamo anche di un giocatore con 80 di forza e 93 aggressività, per cui il classico mastino, che si attacca alle caviglie avversarie, le morde e tanto le lascia quando recupera il pallone, quindi tanta roba. Un golo, anche se comunque parliamo di un giocatore che rispetto agli altri costa anche di più, anche se gli altri erano SBC, e che trova un sacco di rivali, soprattutto negli altri campionati in ottica e ibridabilità. E proprio in ottica e ibridabilità di altri campionati facciamo il primo volo pindarico e arriviamo in Ligan. Ligan dove ci aspettano tutta una serie di centrocampisti interessanti, e il primo di questi ovviamente non poteva non essere Renato Sanchez, 1.76 alto, alto 4.5, un giocatore che è molto veloce, ottimo tiro, ottimi passaggi, statistiche di agilità, equilibrio, reattività, freddezza, controllo palla, tutte quante eclatanti, statistiche difensive, non ve lo dico proprio, forza e aggressività, tanta roba, ne abbiamo parlato approfonditamente addirittura in due video, raga, quindi per Renato Sanchez, ecco, non ci stiamo qui a soffermare più di tanto, basti sapere che al momento, tra le carte, diciamo, non ha icon, eccetera, eccetera, io lo reputo il migliore insieme a Bruno, di fatto il mio centrocampo titolare, attualmente è Bruno Potmer, Renato Sanchez. Così come un bel giocatore è anche Eduardo Camavinga, che onestamente è stato un po' sottovalutato all'inizio in quanto costava veramente tanto, però adesso il suo presto bene o male si è assestato, e parliamo di un giocatore di 1.82, alto alto, peccato il 3-3, ma molto rapido, con un discreto tiro, dei passaggi allucinanti, ottime statistiche di agilità, equilibrio, reattività, freddezza, dribbling, controllo palla, ottime anche le statistiche difensive e forza 87 e aggressività 85, quindi anche qui parliamo di una sorta di Renato Sanchez alla fine, un pochino più alto, ok, però con una serie di statistiche che almeno sulla carta risultano essere superiori, certo. Poi la resa in game è sicuramente diversa, però per quanto riguarda ottica, ibridabilità, eccetera, eccetera, sto camavinga, anche se magari vi serve un partner di Renato e Liga, il Ligan è molto favorevole, così come è un giocatore sottovalutato a sua volta, l'esmelu. L'esmelu, raga, da quando ha preso l'upgrade, non è assolutamente male, perché 1.86, è alto alto, a 4-4, ha una discreta velocità, un buon tiro, dei passaggi clamorosi, ottimi parametri per quanto riguarda equilibrio e reattività, agilità e reattività, l'equilibrio è un po' carente, però ha anche un'ottima freddezza, dribbling, controllo palla, statistiche difensive che sono tutte quante eccezionali, vedete quell'81 che magari può stridere un po', ma in realtà quello che lo abbassano è la precisione di testa e la scivolata, che quindi non sono un enorme problema sotto questo punto di vista. Poi abbiamo resistenza 99, forza 83, aggressività 82, quindi per quello che costa soprattutto l'esmelu, io la vado a mettere in quella che è la categoria delle hidden gem, quindi una gemma preziosa nascosta, che secondo me merita di essere scoperta, perché il suo lo fa. Trasliamo e passiamo a una carta un po' controversa, a War. A War, secondo me in questa versione footbird day, ha dei pro e dei contro. Parliamo di un giocatore con 1.75 alto normale, 4 di skill e 5 di debole. A prenderlo così, lo vediamo che diciamo è una carta che sarebbe più improntata a quello che è magari un ruolo di C o C, di esterno, eccetera, eccetera. Di fatti è veloce, ha un buon tiro, ottimi passaggi, ottimi parametri di dribbling, le statistiche difensive sono un po' carenti, così come la forza e l'aggressività. Tuttavia, questo qua, da CC in un 4-4-2, diciamo con un licenza di uccidere, ok, tra virgolette, magari senza anche il resta dietro in attacco, si può assolutamente provare, non è male, anche se io, onestamente, che preferisco un po' più di equilibrio, lo colloco dietro i tre giocatori che vi ho fatto vedere, ovvero Renato, Camavinga e Lesmelu, anche in ottica qualità a prezzo, però questo a War, devo dire che anche quest'anno ha trovato quella che è una sua versione speciale, molto, 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 molto interessante, quindi può valere la pena di essere utilizzato. Così come non ha bisogno di presentazioni, il buon Arturo Vidal, passando alla Serie A, 1,80m alto-alto, 5 di skill e 4 di piede debole, è una carta che è veloce, ha un gran tiro, ha degli ottimi passaggi, ha ottimi parametri di dribbling, in particolare la reattività, sapete, è importante per quanto riguarda, insomma, il seguire i micromovimenti con l'L2 dell'avversario, statistiche difensive tutte quante eccezionali, così come è eccezionale la forza e l'aggressività. Si è tanto parlato meglio Vidal, Renato, eccetera, eccetera, io non voglio dare un parere assoluto, io reputo che sia migliore Renato, questo con compiti difensivi sicuramente, esclusivamente difensivi, può essere superiore, però io preferisco i giocatori più completi, ma questo Vidal in serie A è totale, se mai mai dovesse uscire un TOS costerà, penso, almeno 2 milioni, un po' come Nainggolano su FIFA 17, quella carta che ricorderemo tutti con affetto. A far compagni a Vidal poi c'è che sì, una carta che comunque continua a fare il suo, 1,83m alto-alto, 3 di skill e 4 di debole, una discreta velocità, un'ottima potenza tiro, degli ottimi passaggi, peccato l'agilità, che qui magari risente un po' per quello che è il discorso mobilità in mezzo al campo, però poi le statistiche difensive sono tutte top, tranne la precisione di testa che abbassa un po', altrimenti sarebbe stato più alto il parametro, e poi abbiamo addirittura 99 resistenza, 93 forze e 95 di aggressività, quindi che sì, è veramente un must have in una serie A, secondo me partner ideale di Vidal per quelle che sono appunto serie A pure, che richiedono due giocatori lì in mediana di questo campionato. Passiamo adesso alla Bundesliga, anche qua un campionato ricco di carte interessanti, e la prima è Leon Goretzka nella sua versione Headliner, una carta che io ho sempre amato, raga, perché è veramente completo, è un Cristo di 1,89m alto-normale, 3 di skill e 4 di debole, è veloce, ha un ottimo tiro, ragazzi, tira delle saracche impressionanti, ha degli ottimi passaggi, peccato l'equilibrio, vabbè, però parliamo di un giocatore alto, quindi non preoccupatevi più di tanto, abbiamo poi quelli che sono ottimi parametri per quanto riguarda la difesa e ovviamente il fisico, per quello che è un giocatore appunto lì in mezzo al campo, se vi serve un tedesco, sicuramente è molto 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 forte, molto molto valido, Goretzka è uno dei miei preferiti. Strappa la regola in ottica Toti, che ho detto non ve li metto, perché Kimmich Toti ve l'ho voluto piazzare, perché secondo me tra i vari Kimmich è l'unico utilizzabile, ma secondo me paradossalmente in ottica qualità-prezzo è inferiore a Goretzka, perché ovviamente statistiche che sono tutte quante pum pim pum pam, però è un giocatore che è 1,76, quindi fisicamente lo sentite meno, è comunque un 3-4, ha comunque lo stesso work rate alto normale, quindi onestamente io non lo vado a preferire a Goretzka e poi costa anche in più, quindi se vi devo dare un consiglio tra i due scegliere Goretzka, però ovviamente Kimmich Toti, giocatore di tutto rispetto. Passiamo adesso in Spagna e andiamo dal meme, Cucurella, però meme perché non è vero, perché questo qua parte da esterno, ma è alto normale, 4-4, e può essere tranquillamente spostato, raga, sia CC che CDC, perché è veloce, ha un buon tiro, dei gran passaggi, è agile, ha equilibrio, ha reattività, ha una buona aggressività, ha delle ottime statistiche difensive con quella lettura difensiva che magari un pochino al pelo, ma il suo devo dire che comunque lo fa, peccato per la forza, però parliamo di un giocatore di 1,72, quindi diciamo una sorta di cantelli ovviamente più alto, però Cucurella per il meme è gratuito, ci poteva stare da adattare lì in mezzo al campo. Completiamo per quanto riguarda la liga con Marco Siorente, Marco Siorente che ci ho tenuto a piazzare tuttora, perché questo qua è veramente un bel giocatore, è 1,84, alto, alto e veloce, ha dei gran passaggi, è agile, è reattivo, ha un buon dribbling, una buona freddezza, statistiche difensive impressionanti, buona forza e buona aggressività, secondo me in liga questi due sono i più validi, sarà un caso che sono tutti e due esterni e si possono adattare? Chi lo sa. Magari uscirà Valverde Tozzo, non lo sappiamo, però al momento questi due sono i più interessanti. Facendo un passo indietro invece per quanto riguarda la Bundesliga, un'altra carta molto interessante è Mrekan, 1,86, normale, alto, 5,4. Questo qui, l'unico problema che c'ha è quello dell'accelerazione, che è un problema però grave, perché sul primo passo magari c'è da parecchio, però poi peccato perché ha degli ottimi passaggi, comunque è agile, equilibrio e reattività, delle buone stats difensive, 90 di forza e 92 di aggressività, quindi si attacca che è una bellezza all'uomo. Peccato, vi ripeto, per quel parametro di accelerazione che me lo fa piazzare dietro ovviamente con Retsk e Kimmich, però può essere una buona alternativa. Quindi raga, per quanto riguarda quello che è la situazione in linea mediana di campo, pre-tots, secondo me, sottolineo e risottolineo, è tutto. Fatemi sapere che ne pensate con un commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, in descrizione tutte le info per quelle che sono le live giornaliere sulla piattaforma viola. Un saluto al vostro Liberoschi, un abbraccione e statemi bene, ciao ciao!